In seguito alle elezioni provinciali di Teramo che hanno evidenziato tre franchi tiratori tra i consiglieri comunali del capoluogo, la maggioranza del sindaco Brucchi sembra molto più instabile. Eppure per il primo cittadino la sua giunta non rischia nulla, anzi è in arrivo un puntello decisivo. Alfonso Di Sabatino Martina, detto Dodo, che con la sua lista civica, Teramo soprattutto, ha appena eletto un consigliere in provincia e che, da pungolo critico verso il sindaco fino ad oggi, sarebbe pronto a schierarsi al suo fianco e ad accogliere la delega di assessore alla ricostruzione. È chiaro che il voto, per come si è manifestato, probabilmente qualche difficoltà l'ha lasciata, non c'è ombra di dubbio. Però è anche vero che poi è legittimo che ognuno si esprima rispetto a quelle che sono le sue aspettative, quelle che sono le sue preferenze nell'ambito del voto, che come è noto è segreto ed è nel silenzio dell'urna. Io non credo che si debba fare un dramma di questa situazione, anche perché ritengo che poi, se non si è voluto votare le persone indicate, evidentemente immagino che si abbiano avuto dei motivi validi. Lei è ancora disponibile ad essere assessore alla ricostruzione? Io veramente non ho manifestato questa disponibilità, ho manifestato una disponibilità a dare una mano a questa amministrazione. Poi la mia disponibilità, per la verità, c'è da qualche periodo, perché insomma qualcuno sfugge che il ruolo che il mio gruppo ha esercitato e che continua a esercitare è un ruolo di pungolo, a volte anche di critica, ma è stato sempre un ruolo di grande correttezza. E non è stato mai legato a ambizioni personali che peraltro potevano essere più che legittime, visto che insomma non sfugge a nessuno, che abbiamo una rappresentanza piuttosto ampia di tre consiglieri, che quindi siamo più che decisivi nel mantenimento di questa amministrazione. Quindi un puntello decisivo? Beh, un puntello decisamente decisivo. Dunque, Dodo Di Sabatino sarebbe pronto a diventare assessore alla ricostruzione e a puntellare la giunta a Brucchi. Lo farebbe però solo se nel futuro politico del centrodestra ci sarà per lui una candidatura a sindaco della città di Teramo. Grazie a tutti.